Musica Scomparso in mare a Follonica, ricerche anche dall'Elba. Ritrovata soltanto l'imbarcazione di un 66enne uscito ieri sera a Pesca, dirige l'operazione nella direzione marittima di Livorno e impiegato anche un elicottero. Uno sbalzo di corrente a Rio, danni agli elettrodomestici e l'Enel rimborsa. La società che ha avuto danni può presentare richiesta, tenete gli oggetti danneggiati per eventuali perizi e le fatture originali di riparazione. Dopo Elba Movie, ecco Elba, la profezia di Nerina. Dalla webserie realizzata dai Licaoni per visite Elba è stato realizzato un albo a fumetti che verrà presentato domenica 20 dicembre a Portoferrario, alla Gran Guardia. Le sughere monumentali di Fonte Murata. Ancora un contributo video di Carlo Gasparri, presidente della Commissione Ambiente della Fondazione Isola del Baonlus, alla conoscenza del patrimonio vegetale della nostra isola. Ben ritrovati cari telespettatori del telegiornale di Tele-Elba. La prima pagina di questa sera è dedicata all'isola che non c'è, l'isola che purtroppo ha delle carenze con le quali combattiamo tutti i giorni. Siamo a Portoferraio, il caso è quello della piscina comunale. Sentiamo che cosa ci racconta la collega Antonella Danesi. Ieri siamo venuti alle ghiaie per far vedere quello che c'è all'Elba e cosa si fa in inverno. Oggi siamo ancora alle ghiaie per far vedere invece quello che ancora non c'è, la piscina comunale. L'apertura della piscina quest'anno è particolarmente in ritardo. Era stata annunciata per il 9 di dicembre, poi rimandata di un'altra settimana. Siamo al 17 e ancora non è aperta. Siamo quindi venuti a vedere a che punto sono i lavori di cui ci ha parlato qualche tempo fa l'assessore Bertucci. E siamo entrati in piscina. Molti si interrogano sul perché di questi ritardi. Nelle scorse ore anche un'interpellanza del gruppo Cosetta Pellegrini, sindaco, ha posto l'attenzione su quello che definiscono il giallo della piscina comunale, riferendosi anche al tipo di tinta usata per le pareti. Ecco a che cosa ci ha risposto l'assessore allo sport, Adalberto Bertucci. Mi meraviglia ancora una volta di più che la minoranza che è stata maggioranza per dieci anni faccia delle interpellanze su delle situazioni che hanno lasciato. Questa piscina sappiamo benissimo che è una piscina che ha 63 anni, ha bisogno di una manutenzione particolare, l'ha avuta qualche anno. Ma io mi metto anche gli anni che c'eravamo noi dal 2000 al 2004, che forse anche il lavoro non più potevamo farlo. Però quest'anno ci siamo accorti che stava cascando veramente tutto. Abbiamo fatto una scelta di aprire il ritardo per fare tutti i lavori. Sono stati fatti i lavori che in questi 15 anni, perché la piscina è stata presa in carico dal Comune di Portofrani nel 2000, quindi in 15 anni non sono mai stati fatti. Abbiamo fatto un rivestimento alla vasca di contenimento per risparmio energetico. Abbiamo fatto, visto che c'era da fare dei lavori interni di manutenzione urgente, perché cascava all'intonaci e era pericoloso per i bambini che vengano, abbiamo approfittato di allungare magari 15-20 giorni di più, però abbiamo fatto dei lavori importanti che porteranno alla fine della chiusura della piscina un risparmio sia di gasolio che energetico. Quindi, sì, capisco, dispiace, io ho lavorato 20 anni in piscina, quindi lo so che dispiace aprire il ritardo, ma abbiamo aperto il ritardo anche quando c'era Cosetta Pellegrini, abbiamo aperto a metà novembre, abbiamo aperto a fine novembre, quindi ora noi apriremo, penso ormai dopo domani, le date ormai le abbiamo date tante, ne do un'altra, dopo domani, apriremo dopo domani e rimarrà aperta per tutte le feste di Natale, cosa che non è mai successa, e chiuderà i primi di giugno, a differenza degli anni scorsi che chiudeva a fine aprile. Quindi, basta con queste polemiche sterili che non servono a nulla, servono per niente, non servono a nulla. Chiedo semplicemente una cosa che ha la minoranza, di collaborare, invece che criticare, criticare sempre che non serve proprio a nulla. Quanto avete speso per questi nuovi lavori? Sì, i lavori non li ha fatti i ragazzi della Cosimo, ti ringrazio per la domanda perché devo ringraziarli particolarmente, perché i lavori sono stati fatti tutti esclusivamente dai ragazzi della Cosimo e hanno fatto tutti i lavori loro, a parte i lavori naturalmente nelle caldaie, che c'è una ditta apposta che fa questi lavori. E' stata verniciata, ho fatto polemica anche sul colore del fondo della piscina, ma mi sembra che sia un fondo verdolino chiaro, con polemiche sterili. Come vedete siamo entrati nella piscina comunale, questi sono i lavori che sono stati effettuati, e quindi, come ha annunciato l'assessore Bertucci, lunedì la piscina riaprirà, con quindi modalità di apertura diverse rispetto agli scorsi anni, forse anche per compensare i ritardi nell'apertura, che però evidentemente sono stati risolti. Silent night, holy night, Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Christ the Savior is born 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 di Vorno, indicando quando è avvenuto il fatto, i danni subiti e riportando copia delle spese per eventuali riparazioni o sostituzioni. È opportuno tenere anche gli oggetti danneggiati per eventuale perizia e le fatture originali di riparazioni. Le richieste, conclude Enel, saranno valutate in base a quanto emergerà dall'indagine sulle cause del fatto ed Enel distribuzione. Risponderà ai clienti fornendo tutte le informazioni del caso. Ci spostiamo adesso a Porto Azzurro, dove qualche sera fa si è svolto un importante incontro tra i tour operator dell'Isola d'Elba e Blu Nevi, la terza compagnia di navigazione, quella con il 30% di partecipazione di capitali elbani. Sentite com'è andata. Dopo i tour operator polacchi all'ambasciata italiana di Varsavia, che qualche bel gruppo di turisti primaverili ha orientato verso l'isola, la compagnia di navigazione Blu Nevi ha incontrato nella serata di martedì 15 dicembre le agenzie di viaggio isolane. L'occasione conviviale presso il ristorante Floriano di Porto Azzurro ha radunato, oltre al sindaco Luca Simoni, a fare gli onori di casa, una trentina di operatori da tutti i comuni dell'isola ed è stata l'occasione per consolidare quel rapporto territoriale che sta alla base della filosofia Blu Nevi. Essere il più possibile uniti nello sforzo di portare all'Elba durante tutto l'anno, una fetta sempre maggiore del turismo. La promessa di Alberto Viscovo, direttore commerciale di Blu Nevi e patron della serata, dopo aver ringraziato il sindaco e il comune di Porto Azzurro e tutti gli operatori presenti, è stata quella di impegnarsi a replicare questo incontro con le agenzie di viaggio per i prossimi anni a rotazione nei comuni dell'isola. E parliamo di promozione turistica. Dopo i successi di Elba Movie, la webserie dedicata a Napoleone in occasione del bicentenario dalla gestione associata della promozione turistica, adesso c'è un sequel. Infatti Elba Movie diventa un fumetto che verrà presentato domenica alla Gran Guardia. Il servizio. Domenica 20 dicembre a Portoferraio alle ore 17, presso la sala della Gran Guardia, verrà presentato l'albo a fumetti Elba, la profezia di Nerina. Evoluzione del progetto Elba Movie, il fumetto costituisce il completamento narrativo di Elba, l'eredità di Napoleone. Webserie evoluta da Visite Elba e realizzata dal Digital Studio Ilicaoni, vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, da ultimo il prestigioso Efe Beudoro. L'albo di 48 pagine a colori che può bantare la prefazione a firma congiunta di due eccellenze del fumetto italiano come Daniele Caluri ed Emiliano Pagani, i paguri, è edito dall'associazione culturale Double Shot ed è realizzato da Francesca Detti e Alessandro Izzo e Ilicaoni per i testi, Luca Lenci per i disegni e Bernardo Anichini per i colori. Alla presentazione interverranno il vice sindaco e assessore alla cultura di Portoferraio Roberto Marini, il presidente dell'associazione culturale Double Shot Alessio Duva e gli autori per l'incontro col pubblico e la firma delle copie. Ospite è anche Leonelo Balestrini dell'associazione Istorie che condurrà il pubblico in un viaggio storico attraverso l'Elba del 1814. La storia del fumetto racconta di un passato lontano, quando sulla piccola isola del Tirreno si è da poco insediato Napoleone Bonaparte, al suo cospetto Nerina, una giovane popolana giunta in delegazione con altri compaesani, ma un prodigioso medaglione scombinerà il destino dei due. Una guerra tra divinità etrusche, una frattura temporale e l'insicura Nerina si troverà a dover salvare l'Elba e l'universo intero insieme a Leonardo, una scapestrata guida elbana piombata lì dal 2014. E parliamo adesso di cucina, un'attività che sta diventando di gran moda grazie probabilmente ai cooking show televisivi e qualcosa del genere, anche senza l'apporto della televisione che comunque me ne parla proprio in questo telegiornale, avverrà da gennaio in poi a Portoferraio con un laboratorio di cucina per le famiglie all'Enoteca della Fortezza. L'organizzazione è di Snow Food. Un laboratorio di cucina davvero originale, quello che a partire dal mese di gennaio 2016 prenderà avvio presso i locali dell'Enoteca della Fortezza di Portoferraio. L'organizzazione della condotta Slow Food Elba e Capraia in collaborazione con l'associazione Link. Cinque incontri dal titolo Cosa ribolle in pentola che avranno come tematica quella del riuso in cucina. Sarà aperto a persone singole, coppie e famiglie che vogliono sperimentarsi con le ricette proposte dallo chef Alvaro Claudi, rigorosamente create a partire da quello che ha avanzato in frigo. Inoltre, grazie alla presenza di una biologa nutrizionista e di alcuni psicologi psicoterapeuti, si potranno imparare diverse strategie per la conservazione e cottura dei cibi e l'organizzazione dei pasti. L'associazione Link, infatti, è una giovane realtà che opera sul territorio di Firenze, Pisa e l'Elba e mette insieme giovani professionisti di varie specializzazioni che hanno come obiettivo principale quello di lavorare sulla comunità e sul benessere delle persone. Ed è per questo che l'incontro con la condotta di Slow Food è stato tanto semplice in quanto il benessere, la salute e il buon cibo e soprattutto il buon mangiare rappresentano temi comuni e condivisi da entrambe queste realtà. Apre una nuova scuola di musica all'Isola d'Elba, un fatto importante, c'è grande fermento artistico, in realtà non si tratta di una nuova cultura ma di una nuova sede della Officina della Musica che per l'occasione dedica un Open Day proprio a Rio Marina dove verrà aperta la nuova scuola. Sabato 19 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 si terrà l'Open Day al nuovo distaccamento di Rio Marina dell'Officina di Musica presso il Centro Culturale Polivalente. Sarà possibile visitare le aule, conoscere gli insegnanti, provare gli strumenti musicali, ascoltare gli altri musicisti presenti. Una giornata di scuola aperta durante la quale si potranno scoprire anche tutte le importanti novità didattiche. L'Officina della Musica arriva così all'importante traguardo della sua terza sede sul territorio ilbano dopo quella storica di Portoferraio attiva dal 2008 e quella di Marciana attiva dal 2014. L'offerta didattica dell'Officina della Musica, spiegano gli insegnanti, comprende corsi di livello principiante, intermedio ed avanzato per alunni di qualsiasi età. Saranno presenti corsi del Dipartimento Classico, Pianoforte, Violino e Moderno, Chitarra, Basso, Elettrico, Batteria, Canto, ai quali si affiancheranno vari laboratori di musica d'insieme finalizzati alla realizzazione di concerti ed esibizioni dal vivo. L'Open Day si terrà in collaborazione con il Comune di Riomarina e la Proloco di Riomarina e Cavo. E nel prossimo servizio ci proiettiamo già verso il Santo Natale. Si parla di presepi viventi. Ce n'è uno che torna praticamente nel luogo d'origine dove è stata effettuata la prima rappresentazione di questo genere all'Isola del Ba. Stiamo parlando di Marciana. è proprio qui che il presepe vivente tornerà a vivere nei prossimi giorni. Il Natale all'Elba non sarebbe tale senza il tradizionale appuntamento con il presepe vivente di Marciana, organizzato dall'Associazione Il Rifugio insieme a un gruppo di cittadini e patrocinato dal Comune. Una vera e propria rappresentazione teatrale, dice Antonio Berti, uno degli organizzatori che coinvolge tutti, anche il pubblico che viene a vedere tante le novità di quest'anno. Quest'anno nella piazzetta superiore abbiamo realizzato, come già anni fa, un mulino d'acqua in scala normale e perfettamente funzionante. Abbiamo cercato di variare un pochino anche la storia. La storia quest'anno introdurrà un argomento che è gli Zeloti. Gli Zeloti erano una specie di setta messianica, erano dei farisei che interpretavano a modo loro, come avviene anche oggi, lo vediamo ogni giorno, le Sacre Scritture. Un'altra novità è la ubicazione della Natività. L'Esepe di Marciana è una rappresentazione, potrei dire una vicenda teatrale che ha sì delle parti statiche, ma che si svolge nell'arco di un'ora, un'ora in quarto e che quindi non impegna e poi perché secondo me in questo modo coinvolge tutti. Ci sono dei momenti in cui sembra che la folla che viene a guardarlo, a vederlo, faccia parte essa stessa del presepe. Sembrano tutti personaggi del presepe. Questa è la bellezza del presepe di Marciana. Il presepe vivente è in programma a Marciana dal 24 al 27 dicembre. Per il giorno della vigilia sarà allestito di sera alle 21.30, mentre per gli altri tre giorni l'appuntamento è alle 17.30. Dedichiamo l'ultima pagina del nostro telegiornale a delle bellissime immagini, quelle dei giganti verdi dell'Isola d'Elba. Ce li racconta, ce li mostra, amminabilmente così come sa fare, abbastanza bene direi da qualche tempo, Carlo Gasparri, che è noto in questo momento soprattutto per essere il presidente della Commissione Ambiente della Fondazione Isola d'Elba Onlus. Il suo servizio di oggi, queste belle immagini, sono dedicate ai giganti, alle querce secolari di Fonte Murata. Quando si parla di patrimonio alboreo, in genere si va a vedere i grandi alberi secolari o che hanno una storia dietro. Noi vogliamo raccontare una cosa che riguarda, che voi naturalmente conoscerete come me, ma comunque la ripetiamo perché la possano conoscere anche i giovani. Dalle grotte a venire in qua verso Porta Azzurro, seguendo la strada provinciale, sopra strada c'è generalmente grandi piante di sughere. Queste piante di sughere insieme a degli olivi, cioè era una zona che non veniva coltivata per frumenti, ma aveva queste piante perché sono piante che reggono bene alla morfologia di questi tipi di terreni. Ma per capire bene come stanno le cose bisognerebbe tornare indietro nel momento in cui è stata disastrata questo territorio perché sono stati piantati dei pini, questi subito negli anni 50 quando poi le pinete sono diramate in tutta l'elba. Noi siamo venuti qui nella zona proprio di fonte murata per farvi vedere due sughere, due sughere che sono fra le più grosse che ci sono in questa zona e le più belle. Questa era sicuramente una zona dove ci tenevano gli animali al fresco ed è una zona dove le sughere erano proprio state conservate, mentre le altre sughere sono state spogliate del sughero. Queste si vedono molto bene perché hanno una corteccia di sughero molto molto alta e il sughero non è mai stato toccato, cioè queste piante non sono mai state spogliate dal sughero perché erano tenute in considerazione dai tempi antichi proprio, perché erano piante che servivano proprio e dovevano essere grandi perché mantenevano magari sotto le 10-20 bestie che venivano qui e fra l'altro è proprio sull'orlo di questo fosso. Qui una volta scorreva l'acqua che ora scorre un po' poco, però generalmente scorre perché avevano forse la possibilità anche di abbeverarsi. Guardate quanto è bella questa pianta, è veramente una cosa eccezionale con questi quattro rami che salgano su che sono di una grossezza incredibile e a un metro e trenta di altezza si parla addirittura di 4,50 metri di circonferenza escludendo questa rama grossa che è qui che è oltre un metro e mezzo anche questa, praticamente sarebbero oltre 7 metri diciamo di circonferenza una pianta eccezionale, ma quello che è bello è che qui si era tenuto conto non solo di questa pianta ma questa che c'è qui sotto, a pensare che le due piante sono alte più o meno 15 metri e qualcosa, l'abbiamo misurate col dedometro e hanno un una chioma larga 26-27 metri, pensate che bellezza sono queste piante, guardate questa quanto è bella, è una pianta diciamo che è un albero, così bello è difficile veramente incontrarlo, questa è fra le sughere più grandi e più belle che ci sono all'Elba, oggi queste sughere sono l'esempio di quello che era questo bosco, quest'albero è una cosa imponente, infatti ha 3,90 metri di circonferenza e 15 metri e 30 di altezza e ha 26 metri di apertura, di ombra, è una pianta eccezionale e entrerà, fa parte di quelle piante del comune di Portoferraio che sono le piante importanti, cioè quelle importanti che poi fanno parte della cattoria storica oppure piante monumentali o piante paesagisticamente importanti, questo è quello che noi consegneremo fra poco al comune di Portoferraio visto che tutti i comuni dovevano avere un elenco delle piante, Portoferraio ha già un elenco delle piante ma noi gli daremo il contenuto di quello che abbiamo fatto nel 2015 facendo questo lavoro, arrivederci alla prossima puntata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!